Pietro Paolo Martinelli, produttore di uno dei formaggi più importanti dell'Abruzzo, ovvero il pecorino di Farindola, si è stato uno dei tanti protagonisti al villaggio Coldiretti di Roma, ma è il dato che fa più allarmare questo meno 70% dell'evento dovuto allo svuotamento dei piccoli centri. È stata innanzitutto un'esperienza molto positiva quella del villaggio Coldiretti di Roma, dove si è registrata un'affluenza al di sopra di ogni aspettativa e soprattutto abbiamo potuto riscontrare che il pubblico ha apprezzato molto i nostri prodotti. Per quanto riguarda il discorso legato invece al calo delle vendite, abbiamo assistito dopo gli eventi del 2016 e 2017 a un calo dei passaggi, soprattutto nel periodo estivo dove registravamo l'affluenza più importante e quindi anche le vendite dei nostri prodotti. Ricordiamo che la vostra struttura è stata fortemente danneggiata dalle nevicate e dai terremoti degli anni passati, a che punto è la vostra ricostruzione? Siamo abbastanza fermi, anche se negli ultimi periodi sembra muoversi qualche cosa, però allo stato attuale è pressoché tutto come all'epoca. Continuiamo ad andare avanti in situazione molto rimaneggiata, cerchiamo di fare necessità virtù e di andare avanti con quella parte di strutture che era rimasta fortunatamente in piedi dopo l'evento calamitoso di gennaio 2017.